Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Claudioar e oggi siamo in una top davvero molto interessante Infatti oggi vedremo 5 strane creature marine scoperte dopo uno tsunami Già vi avviso che questa top è davvero incredibile però non vi voglio spoilerare niente Comunque vi ricordo che ho iniziato una sfida su Instagram che se arriviamo a 10.000 followers mi rasterò i capelli a zero Quindi se volete battermi trovate il link in descrizione Ve lo ricordo perché comunque è una sfida che ho lanciato in questo mese appunto Comunque come sempre saluto anche i 4 fortunati di oggi che sono Francesco D'Alessio Ressa e Ita Morrino per quanto riguarda i tuoi iscritti di YouTube E Federix e Fatita Mood per quanto riguarda i tuoi followers di Instagram Se anche voi volete essere salutati nel prossimo video dovete solamente lasciare un bel like a questo video Iscrivervi a questo canale e attivare la campanella Oppure se volete avere un pochino più di possibilità potete seguirmi sul mio profilo privato di Instagram Trovate come sempre il link in descrizione Adesso vorrei incominciare subito con questa top In data 11 marzo 2011 il Giappone ha subito il peggior terremoto della sua storia E uno dei peggiori nella storia del pianeta Il terremoto del 2011 ha misurato 9 gradi di magnitudo E ha prodotto uno tsunami la qual altezza massima è stata di oltre 40 metri Nonostante fosse stato dato l'allarme migliaia hanno perso la vita in seguito al terremoto e al conseguente tsunami Oltre 100.000 edifici sono stati danneggiati mentre diverse città sono state completamente rase al suolo Centinaia di scosse di assestamento tra cui alcune di oltre 7 gradi richer si sono susseguite dopo il terremoto principale In seguito al disastro della centrale di Fukushima vi è stata una crescita della preoccupazione e dell'attenzione verso gli standard di progettazione sismica nucleari giapponesi In quanto gli avvenimenti sono stati classificati dall'Agenzia per la Sicurezza Nucleare e Industriale del Giappone al grado 7 della scala Ines Il massimo appare il livello con il disastro di Chernobyl E quindi il disastro della centrale nucleare di Fukushima ha inquinato l'ambiente giapponese E proprio qualche giorno dopo il terremoto e l'enorme tsunami fu ripresa in Giappone questa misteriosa creatura Che non si sa ancora bene di cosa si tratti Alcuni credono che possa essere mutante che si è creato proprio durante l'incidente di Fukushima Mentre altri ancora credono che si possa trattare di un umanoide marino tipo una sirena Chissà di cosa si tratta ma in ogni caso questa strana creatura ha incuriosito tanta gente E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti Nel corso degli anni l'uomo è sempre stato alla ricerca di nuove scoperte Anche per quanto riguarda i fondali marini Ed è capitato che durante le ricerche compiute nei fondali Sono state fatte notevoli ed interessanti scoperte Però ora vedremo questa strana creatura marina scoperta dopo uno tsunami Sembrerebbe infatti trattarsi di un pesce con un'enorme bocca gigante piena di denti affidati Sinceramente non si è ancora capito di cosa si tratti Ma in ogni caso speriamo di non incontrarla mai durante un bagnetto a mare Anche questa creatura marina è stata scoperta dopo uno tsunami E si tratterebbe di una sorta di ibrido tra una balena beluga e uno squalo Per adesso le uniche testimonianze di questa creatura sono date da queste immagini E ovviamente è inutile dire che queste immagini diventarono subito virali E comparirono anche in alcuni giornali internazionali Alcuni hanno ipotizzato che si potrebbe trattare di una creatura mai avvistata Poiché vive nelle profondità marine Secondo voi di cosa si tratta? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti In Russia dopo uno tsunami è stato scoperto su una spiaggia una strana creatura marina con un becco Infatti dopo aver visto queste incredibili immagini alcuni hanno giustamente ipotizzato Che si possa trattare di qualche specie di dinosauro marino ancora superstite Cosa che potrebbe darsi visto che molte specie marine sono ancora inesplorate Quindi non dovete escludere questa ipotesi Secondo voi si potrebbe trattare di una specie superstite di dinosauro marino? Fatemi sapere la vostra nei commenti Dopo uno tsunami fu trovata nella costa ovest degli Stati Uniti una lunga creatura marina dall'aspetto inquietante L'uomo che trovò questa creatura scattò la foto in cui mostrava proprio questa spaventosa creatura da un solo occhio Non si sa ancora che creatura sia ma in ogni caso rimane davvero creepy e speriamo di non incontrarla mai in acqua Questo video purtroppo finisce qui Vi ricordo che se il video è stato di vostro gradimento di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare like e condividere il video Ciao!